Riparte Musee, il servizio didattico dei musei civici di Pordenone, con nuove occasioni d'apprendimento, laboratori e approfondimenti alla scoperta dei musei civici d'arte, di storia naturale e archeologico, per bambini e ragazzi di tutte le età. Siamo al Museo di Storia Naturale di Pordenone ed è una giornata felice perché per la prima volta dopo il Covid sono tornati i bambini ad animare i musei. E approfitto per dire che le attività didattiche nei musei comunali, cioè appunto il Museo di Storia Naturale, il Museo Civico e il Museo archeologico, sono pienamente ripartite con un ricco programma che è destinato ai bambini delle scuole di ogni ordine e grado. È un modo per valorizzare i nostri musei e anche per coinvolgere i nostri ragazzi nella vita culturale pordenonese. L'invito alle scuole è quindi quello di rivolgersi al sito del Comune, a Eupolis che gestisce queste attività, per iscriversi e scoprire questi centri culturali della nostra città. Il progetto, aperto alle scuole di tutto il territorio, dall'infanzia alle superiori, propone una ricca gamma di laboratori e interventi da realizzare in museo, in ambiente, in aula didattica e nella sede scolastica, sia in presenza che da remoto, nel rispetto di tutte le regole anti-Covid. Il progetto Musei Civici di Pordenone riparte quest'anno con le attività direttamente in presenza, finalmente, con molte proposte che riguardano tutti i livelli scolastici, dalla scuola dell'infanzia fino alla scuola secondaria di secondo grado. Sono 96 proposte diverse tra il Museo Archeologico, il Museo di Storia Naturale e il Museo d'Arte, con attività laboratoriali in cui i ragazzi sperimentano e toccano con mano i reperti per far vivere a pieno i musei. C'è inoltre quest'anno la possibilità, vista le difficoltà di alcune scuole, di accedere al museo, anche la possibilità di svolgere le attività direttamente a scuola o nei parchi cittadini. Per maggiori informazioni telefonare al numero 0434 92 3027 il lunedì dalle 14 alle 17 oppure scrivere a infochiocciolaeopolis.info.